Ragazzi, oggi giochiamo a Slider io. Ok, ce li diamo. Questo è il telefono di papà. Quello non è il mio. Ho preso un altro telefono. E fanno una telecamera bella. Ecco qui. Però siamo a 2017. Ok, scegliamo una bella skin. Io scriverò il nome. Aspetta, giro la telecamera. Così, va a me. La Capitana d'America. E! Una bella skin. Se giro la telecamera va bella. E allora? La lumaca, giusto? Eh, prendiamo questa qua. Questa qua è giusto. Il nome. Il nome. Il nome su Slider io. Ok, non fa niente. Non c'è il nome. Io presionerò un mod. Attenzione. No, 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 no. Ma brutti vermi siete. Questa è bevete veloce. Attenzione, no! C'è il playstone. C'è i grossi vermi. Ops, sono morto già. Ok. Non mi interessano dei vidi. Ok, scegliamo un'altra skin. Prendiamo l'arcobaleno. Dove l'arcobaleno? Eh! Non ho un occhio! Un occhio! Non ci credo! Ecco qui, questo con un occhio. Mi piace. Mi piace molto. Mi piace molto. Posso giocare a Guns Tye? Pensavo che non... E' morto. Poi è morto. Attenzione, attenzione. Vincerò io, vincerò io. Ah! Ah! Vai piano! Mettiamo lontano. Qui, vingo. Attento. No! Mi ha bloccato la strada. Ok, non mi interessano dei video. E questi sono i nostri saluti per voi. Bah! Grazie. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Mettete un mi piace. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale. E ciao, ciao da Francesco Pucca e i nostri Slider, io che ho giocato. Ciao, ciao! Ciao! Grazie a tutti